Buongiorno, vi do buongiorno in un martedì veramente freddissimo, adesso chiudo le finestre, ho già fatto prendere aria una bella mezz'oretta più e sono già andata a fare il letto, ora lo tiriamo su e se volete fare un po' di compagnia questa mattina facciamo delle pulizie molto molto veloci. Grazie a tutti. 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 Io ho terminato le pulizie, dopo laverò la terra, adesso mi metto a lavorare quindi ho fatto proprio giusto tutte le cose che servivano in casa. Io vi auguro una buona giornata, spero di avervi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!